Benvenuti, cari follower. Quindi, un avviso molto severo e urgente da parte del modello europeo e anche americano, del pericolo di un forte temporale in arrivo sull'Italia lunedì e martedì 15 e 16 maggio 2023. Prima di entrare nei dettagli, non dimenticare prima di supportare questo video con ammirazione, in segno di apprezzamento per i nostri sforzi nel trasmetterti sempre informazioni in forma continua ed esclusiva. Premi mi piace in modo che questo video raggiunga più di 2000 mi piace e grazie per il supporto. Quindi, nell'ultimo aggiornamento del modello europeo, mette in guardia con forza le regioni meridionali e centrali d'Italia, soprattutto della possibilità che entri un temporale che sarà alquanto forte, carico di piogge molto intense e tempestose in un breve lasso di tempo. Porta alla formazione di piogge torrenziali e alluvioni, soprattutto in regioni come la Sicilia, e anche nel resto delle regioni meridionali e centrali d'Italia, e questo inizia da lunedì 15 maggio, fino a martedì 16 maggio 2023, e le quantità di pioggia possono superare una barriera di 100 millimetri in un periodo record, quindi è necessaria cautela e fortemente il lunedì e il martedì per le regioni del centro e del sud Italia. Come ho detto, ciò è dovuto all'ingresso di un temporale piuttosto forte che ruota anti-orario proveniente dal nord della Tunisia e dell'Algeria e colpirà le regioni meridionali d'Italia, a cominciare dall'isola di Sicilia, per poi penetrare gradualmente in tutte le regioni meridionali e centrali. Pertanto, come ho detto, il divieto è necessario e sarà accompagnato da venti molto forti e burrascosi che superano i 100 km orari, seguiamo tutti i nuovi aggiornamenti e rimaniamo sintonizzati per dettagli più precisi in seguito e, infine, buona salute!